Veniamo a una cosa su cui l'hai specializzato, Erasmo da Rotterdam. Alcuni storici sostengono che Erasmo da Rotterdam abbia scritto delle lettere d'amore a un altro uomo e citano il nome. Cambia qualcosa nella sua stima di Erasmo? No, assolutamente. È vero intanto che fosse omosessuale? Non è chiaro? No, no, secondo me non è vero, ma anche se fosse vero non me ne frega niente. Non ne frega niente. E questa cosa, perché oggi lo consiglierebbe la lettura ai giovani? Perché Erasmo è intanto un utopista, perché uno che scrive L'Elogio della Follia è un grande utopista, non a caso l'abbiamo messo a base questo libro della nostra Biblioteca dell'Utopia. E poi perché è un personaggio anche che fa riflettere, è un filosofo dell'anima ed è un uomo straordinario per l'impegno che ha profuso in un periodo, come sappiamo, importantissimo della controriforma. C'è la riforma e la controriforma. E poi è un personaggio che mi ha sempre affascinato. Ma i giovani, scusi, senatore, l'elogio della follia in termini rozzi. Sì. E anche l'elogio dell'anticonformismo, di volere una propria identità, di non seguire la cultura della televisione, e basta, di coltivare, di essere, anche il coraggio di essere diversi dagli altri. E' corretto? E' correttissimo. Lei ha interpretato perfettamente. Ecco, ma oggi c'è questo coraggio e lei si adopera per questo. Io sì. Ma la TV non uccide questa tendenza? Ma che c'è, la TV purtroppo non dipende da noi, è un fatto commerciale da una parte e dall'altro è in mano, per così dire, allo Stato che corre dietro la televisione commerciale. Quindi lì non abbiamo molta speranza. Però la televisione, per così dire, il televisore, chiamiamolo perché per me la televisione è il televisore, quello che c'è lì dentro, alla fine contiene cose comunque che vale la pena di seguire. Adesso io non voglio fare l'elogio di Skype, però per esempio su Skype ci sono tanti canali che non esce più. Senta, da questo punto di vista però lei ha fatto delle sottolineature, per esempio il suo giornale su Costanzo ha detto a volte ci sono degli eccessi, eccetera. La pensa ancora così ai tempi al Costanzo Show? No, io non ho fatto di queste cose. Cosa puntualizziamo? No, lo so, io francamente con Costanzo ho avuto sempre un ottimo rapporto e ho collaborato, lui con me all'epoca per fare grande la televisione, quindi non mi sento di muovere nessun appunto. Quello che è il Domenicale, una polemica che è iniziata il Domenicale, intanto non viene direttamente da me, come sanno tutti gli editori. E ci possono essere anche spunti di critica, ma insomma tutto rimane in quell'ambito, il valore di Costanzo con la televisione è scritto.